dagli atti degli apostoli nel primo racconto o teofilo ho trattato di tutto quello che gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello spirito santo egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di dio mentre si trovava a tavola con essi ordinò loro di non allontanarsi da gerusalemme ma di attendere l'adempimento della promessa del padre quella disse che voi avete udito da me giovanni battezzò con acqua voi invece tranno molti giorni sarete battezzati in spirito santo quelli dunque che erano con lui gli domandavano signore è questo il tempo nel quale ricostituirà il regno per israele ma egli rispose non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il padre ha riservato al suo potere ma riceverete la forza dallo spirito santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a gerusalemme in tutta la giudea e la samaria e fino ai confini della terra detto questo mentre lo guardavano fu elevato in alto e una nube lo sottrasse i loro occhi essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero uomini di galilea perché state a guardare il cielo questo gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà lo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo ascende il signore tra canti di gioia popoli tutti battete le mani acclamate dio con grida di gioia perché terribile il signore l'altissimo grande re su tutta la terra ascende il signore tra canti di gioia ascende dio tra le acclamazioni il signore al suono di tromba cantate inni a dio cantate inni cantate inni al nostro re cantate inni ascende il signore tra canti di gioia perché dio è re di tutta la terra cantate inni con arte dio regna sulle genti dio siede sul suo trono santo ascende il signore tra canti di gioia dalla lettera di san paolo apostolo agli efesini fratelli il dio del signore nostro gesù cristo il padre della gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore egli la manifestò in cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli al di sopra di ogni principato e potenza al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla chiesa come capo su tutte le cose essa è il corpo di lui la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato quando lo videro si prostrarono essi però dubitarono Gesù si avvicinò e disse loro a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra andate dunque e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo grazie a tutti i giorni